Sarà proiettato per la prima ufficiale a Bassano venerdì 31 gennaio nella sala da ponte e parliamo di Villetta con ospiti. Il film con Marco Giallini e Michela Cescon girato in parte a Bassano, un set scelto con entusiasmo dalla produzione per la bellezza di piazze e panorami. Alla proiezione sarà presente anche il regista Ivano De Matteo, una produzione a cui ha collaborato anche il comune di Bassano e la Vicenza Film Commission per gli aspetti organizzativi.